In rete presse e stampi è la rete che si è costituita a dicembre 2012 a Piacenza in risposta al bando della regione di Stretti 2, il cui soggetto attuatore è il consorzio MUSP. La rete coinvolge 4 imprese, 3 piacentine e un'azienda bolognese rispettivamente nel settore degli stampi e delle presse idrauliche. L'obiettivo del programma di ricerca è quello di fare innovazione a servizio del settore delle presse e degli stampi per efficientare dal punto di vista economico ed energetico i sistemi produttivi. I ricercatori coinvolti sono 4 giovani ricercatori neolaureati, quindi personale qualificato in lauree specialistiche in ingegneria meccanica, energetica ed elettronica provenienti da Piacenza e provincia. La rete si è avvalsa della collaborazione di un manager di rete, CNA Innovazione e di un tutor scientifico nella persona dell'ingegner Matteo Strano, che ha supportato il programma di ricerca dal punto di vista scientifico. Un primo fattore di successo di questo programma di ricerca è il fatto che nelle 4 imprese coinvolte era presente per ogni impresa un ricercatore. Questi ricercatori sono stati inseriti nel programma di ricerca con due contratti a progetto e due contratti a tempo determinato. Oggi questi ragazzi, ed è un elemento di grande soddisfazione per la rete, sono stati confermati un contratto di apprendistato e due contratti a tempo indeterminato. Un ricercatore ha proseguito su un percorso diverso. Oggi siamo soddisfatti di poter dire che questi giovani ricercatori hanno trovato occupazione grazie anche a questo bando della regione e che tutt'oggi stanno proseguendo nell'attività di ricerca, quindi nel programma di ricerca che hanno intrapreso 12 mesi fa con questa iniziativa. Grazie per la visione!